Vaccini da lunedì si possono prenotare i marchigiani fra i 50 e i 59 anni. I sindacati chiedono la riapertura delle visite familiari nelle RSA. Percorre l'Italia a piedi per sensibilizzare a una malattia rara la storia di brusamento. Cala il sipario sul campionato della VL, il bilancio del presidente Costa. Il bilancio del presidente Costa. Partiamo parlando di sanità ed esattamente di vaccinazioni perché è infatti prevista per lunedì 17 maggio l'apertura delle prenotazioni per le vaccinazioni anti-covid-19 per i marchigiani con fascia d'età compresa tra i 50 e i 59 anni. Manca ancora l'annuncio ufficiale ma per il nuovo slot di richieste pare ormai certo lo slittamento di qualche giorno rispetto al cronoprogramma precedentemente ipotizzato. Per la stessa categoria di cittadini con comorbidità cioè con patologie senza elevato grado di rischio la possibilità di prenotarsi alla somministrazione è già attiva dallo scorso lunedì e ad oggi sono circa 12.000 le persone già registrate sul portale della regione. Sabato cominceranno anche le somministrazioni al palazzetto di Gradara che interesseranno i residenti dello stesso comune insieme a quelli di Gabicce e di Tavuglia mentre a breve potrebbe diventare un nuovo punto vaccinale di prossimità anche il palazzetto dello sport Pagnetti di San Costanzo. Nei prossimi giorni verrà effettuato un sopralluogo tecnico in tal senso. Il giorno dopo del raggiungimento nelle marche dei 100.000 contagi da inizio della pandemia il dato quotidiano della provincia pesarese parla invece di 91 nuovi casi con i 233 nuovi positivi a livello regionale nelle ultime 24 ore il numero riscontrato in quella pesarese è il più alto rispetto a tutte le altre province marchigiane. 4.925 i tamponi testati a livello regionale 2.672 nel percorso nuove diagnosi e 2.253 nel percorso guariti 4 invece i decessi notificati ieri sera dal Servizio Sanità della Regione nessuna delle vittime era residente nella provincia di Pesaro Urbino. Riaprire le strutture residenziali dando applicazione alle misure previste dall'ordinanza firmata dal Ministro Speranzi è questa la richiesta delle sigle sindacali provinciali dei pensionati per ripristinare quanto prima le visite dei familiari all'interno delle RSA. È stata firmata lo scorso 8 maggio dal Ministro della Salute Roberto Speranza l'ordinanza in vigore fino al prossimo 30 luglio che consentirà le visite ai parenti all'interno delle RSA. Un provvedimento atteso soprattutto dai familiari degli ospiti delle strutture residenziali che dopo le telefonate o le videochiamate dei mesi più difficili dell'emergenza sanitaria hanno potuto incontrare dal vivo i propri cari divisi da vetrate o barriere di plexiglass. Nel provvedimento sono già state predisposte alcune regole per assicurare che le visite avvengano in sicurezza. Gli ospiti dovranno infatti essere in possesso del certificato verde che attesti l'avvenuta vaccinazione, la guarigione o la negatività al virus comprovata da un tampone recente. Le strutture dovranno programmare gli accessi e per ogni ospite saranno consentiti due visitatori. Obbligatori ovviamente l'utilizzo di mascherine, la rilevazione della temperatura e la presenza di dispositivi per la disinfezione delle mani. Per dare applicazione all'ordinanza è necessario ora che regioni, aziende sanitarie locali e direzioni delle strutture stilino precisi protocolli e linee guida. Sul tema sono intervenuti i sindacati dei pensionati SPCGL, FNPCISL e WILPWIL di Pesaro Urbino per chiedere una rapida messa in pratica delle disposizioni del provvedimento al fine di far ripartire quanto prima le visite. Siamo felici di questa ordinanza e ci auguriamo che in tempi brevi vi sia data un'applicazione pratica alla norma. è un'ordinanza molto chiara che dà indicazioni precise per assicurare che le visite dei parenti vengano fatte in sicurezza. Ormai dall'anno scorso sono passati lunghi mesi, difficili mesi, senza che i parenti possano visitare i propri cari nelle strutture residenziali e questo costa tanta fatica perché sappiamo benissimo che lo stare rinchiusi da soli, l'isolamento sociale e la solitudine rappresentano per gli anziani un motivo di sofferenza che porta all'ansia e alla depressione e a un conseguenze di cadimento fisico. Alcune strutture in questi mesi hanno dato vita alle stanze degli abbracci, anche come sindacato abbiamo insistito perché si creassero queste stanze degli abbracci, però ovviamente è sempre un surrogato, è un qualcosa che non ha niente a che vedere con un abbraccio vero dato ai propri cari. Ora noi ci auguriamo che ci siano subito da parte della regione e delle case e delle varie strutture residenziali delle direttive di applicazione pratica di questa circolare e come organizzazione sindacale siamo da subito disponibili ad un incontro per riadiscutere le modalità di riapertura alle visite. Sappiamo che nelle strutture residenziali ormai la maggior parte degli ospiti hanno ricevuto la prima dose di vaccino e quindi a questo punto non c'è nessun problema o difficoltà che possa essere di ostacolo all'applicazione di questa circolare. Ed ora è il momento di parlare della cronaca e parliamo in modo particolare di due incidenti stradali che sono avvenuti questa mattina a Pesaro con due persone rimaste leggermente ferite. Il primo, registrato lungo la statale 16, ha visto protagonisti conducenti di due motocicli. Una ragazza di 27 anni a bordo del suo scooter è stata infatti tamponata da un 58enne pesarese in sella alla sua moto. Proprio la giovane è stata trasferita in ospedale per le ferite non gravi riportate durante lo scontro. Nella tarda in mattinata invece a Villa Fastigi un 70enne di Vallefoglia perdendo il controllo dell'auto che stava guidando si è scontrato prima con un cartello stradale e poi contro un'auto ferma in sosta. Anche in questo caso l'uomo è stato trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Sempre questa mattina un altro incidente si è verificato a Marotta dove un dodicenne è stato investito mentre si stava recando a scuola in bicicletta. Il fatto è accaduto all'intersezione tra strada Pergolese e Viale Europa intorno alle 8. Il dodicenne è stato soccorso e trasportato per accertamenti in Elia Ambulanza all'ospedale Torrette di Ancona. Nessuna conseguenza invece per la conducente dell'auto coinvolta nello scontro. Ed ora cambiamo completamente argomento e parliamo di un personaggio molto particolare autore di un'impresa unica nel suo genere. Si tratta del friulano Elio Brusamento che da due anni percorre ininterrottamente tutta l'Italia a piedi per accendere i riflettori su una malattia genetica davvero poco conosciuta come la sclerosi tuberosa. Dopo 9.000 km è arrivato oggi anche a Pesaro e noi l'abbiamo intervistato. La sua missione è iniziata a Trieste il 25 aprile 2019 e si concluderà a Udine il 20 giugno 2021 con 9.000 km già percorsi e 600 ancora da intraprendere. L'incredibile viaggio a piedi di Elio Brusamento ha fatto oggi tappa a Pesaro accolto dal presidente del Consiglio Comunale Marco Perugini. Attraverso due anni di camminata non stop, il portavoce nazionale dell'Associazione Sclerosi tuberosa ha acceso i riflettori su questa malattia genetica ancora poco conosciuta. Per adesso innanzitutto non c'è ancora una terapia per debellare questa malattia. Diciamo può colpire in maniera leggera, può colpire in maniera veramente pesante e questo diciamo che crea veramente tanti problemi con le famiglie. Questi ragazzi sono di ragazzi che non riescono a parlare, a volte non riescono anche a camminare e questo comporta veramente per le famiglie una vita difficile. Ho incominciato il mio viaggio diciamo perché doveva essere un viaggio di conoscenza del territorio italiano perché dovevo fare un libro sul territorio italiano. Dopo ho incontrato questo signore nel Lazio che ha un figlio di questa malattia e allora da là è partito tutto questo mio interessamento per questa malattia e allora questo mi ha portato a cercare di portare avanti il più possibile questa malattia e farla conoscere il più possibile. Ed ora ci spostiamo a Vallefoglia dove è stato lanciato un progetto per rilanciare il monte di Colbordolo all'insegna di attività sportive come ad esempio percorsi in mountain bike, trekking e area camper. Le caratteristiche sono quelle di rilanciare le attività turistiche e paesaggistiche e ambientali del monte di Colbordolo. Il monte di Colbordolo è stato un luogo nella storia, era un monte tutto brullo. Il sindaco di allora gli venne in mente di fare una piantumazione, quindi è un monte oggi tutto piantumato di boschi eccetera e diciamo c'erano negli anni del boom economico, speriamo che ritorni, tre ristoranti. Insomma era un luogo piacevole di aggregazione di persone che andavano. Si è realizzato il circuito degli assi con Gimondi, i grandi campioni del ciclismo attorno al monte di Colbordolo con l'arrivo nel monte. Quindi l'idea è ridare diciamo una centralità al monte di Colbordolo che è uno dei punti più importanti dal punto di vista paesaggistico, ambientale e storico e culturale della città di Vallefoglia. Praticamente al centro c'è la valorizzazione del monte di Colbordolo, un ambiente fantastico che purtroppo in questo momento di pandemia è stato in modo quasi naturale rivisitato dai cittadini del luogo. Si vuole valorizzare ancora di più mettendo al centro le famiglie e lo sport. Abbiamo pensato innanzitutto a un discorso a livello di sport perché durante questa pandemia come abbiamo visto c'è stata una crescita esponenziale a livello di acquisti di biciclette, la gente ha cominciato diciamo anche a riassaporare il territorio e quindi con passeggiate, trekking, queste cose qua. E quindi abbiamo pensato a questa cosa sia per i più piccoli, pensando di fare una pista apposita per bambini, per avvicinarli a questo sport e utilizzare vari percorsi che magari in passato usavano, che ne so, cacciatori, passeggiatori lungo i vari boschi della zona e quindi diciamo di far conoscere anche ad altre persone questi bellissimi percorsi immersi nel bosco. Poi abbiamo pensato anche di riqualificare l'area anche a livello turistico, visto che abbiamo la bellissima Urbino qui vicino, la bellissima Montefabri come centro storico e ci siamo detti perché no creare magari un'area camper di sosta sul monte, un'area barbecue dove magari i turisti possono fermarsi o anche la gente del posto quando questa pandemia ci darà l'opportunità di riassembrarsi tutti insieme. Nel corso dell'ultima assemblea elettiva di CNA, Luciano Giunta è stato eletto presidente dei Meccatronici, nuova denominazione che definisce il settore della riparazione auto e moto della provincia di Pesaro Urbino. Giunta è titolare dell'autofficina Autoservice in via Adige a Cattabrighe. L'assemblea elettiva Confesercenti di Pesaro Urbino, che si è svolta nei giorni scorsi in modalità online, ha invece riconfermato all'unanimità i vertici provinciali Pier Stefano Fiorelli, presidente, e Giorgio Bartolini, direttore. In previsione della riapertura degli stabilimenti balneari, l'associazione Piattaforma Solidale sta monitorando la situazione dei parcheggi situati in prossimità delle spiagge ed in particolare la presenza di stalli riservati agli invalidi. Dopo una verifica in zona Fosso Segliore e vista la presenza di una serie di cartelli di divieti di sosta e di un passo carrabile, l'associazione ha chiesto di verificare la legittimità di quest'ultimo, che parrebbe essere abusivo, e del posizionamento degli altri cartelli. È stata inoltre avanzata la richiesta di realizzare sempre in quella zona almeno tre stalli orizzontali per disabili, data la loro scarsa presenza proprio in quell'area. E ora le foto che vi mostriamo, caricate da un utente sui social, ritraggono la condizione del torrente genica in zona muraglia. Alle problematiche già note per l'aria, come ad esempio la presenza di insetti e zanzare e i diversi avvistamenti di topi, si aggiunge la crescita incolta e non controllata della vegetazione all'interno proprio del torrente, come state vedendo. Situazione che potrebbe creare danni e disagi nel caso in cui si verificasse ad esempio piogge e precipitazioni abbondanti. Tra i diversi commenti su Facebook a questa foto, anche quello dell'assessore all'operatività Enzo Belloni, il quale ha affermato che dopo l'arrivo dei permessi necessari, la prossima settimana inizieranno i lavori per riqualificare l'area. Rimanere a casa durante la pandemia ha avuto anche un risvolto positivo, di portare a riscoprire delle belle abitudini, come ad esempio la cura degli orti. In tanti a Pesaro nell'ultimo anno infatti si sono avvicinati alle piccole coltivazioni e in questo prossimo servizio vi diamo qualche consiglio con gli esperti del Garden Center Florio. Il settore dell'ortaggio è in piena crescita. Già l'anno scorso tantissime persone si sono affacciate al mondo dell'orto piantando zucchine, cetrioli, melanzane, peperoni e quest'anno ulteriormente c'è stata una importante crescita. Siamo riusciti a far fronte alle richieste dei nostri clienti grazie a un aumento della produzione di circa il 40%. Dico un aumento della produzione perché noi siamo produttori diretti partendo addirittura dal seme e quindi selezionando sul mercato tutte le migliori sementi per dare ai nostri clienti il miglior prodotto possibile. La grande novità di quest'anno sono sicuramente le micorizze. So che tanti di voi non le conosceranno, sono un inoculo di funghi, quindi un insieme di funghi buoni che aiutano la radice a svilupparsi molto più a fondo all'interno del terreno e in maniera più ramificata. Di conseguenza avremo una pianta che resiste meglio alle carenze idriche, alle carenze nutrizionali e in generale una pianta più produttiva. Lato positivo è che è un prodotto biologico e che previene fortemente le malattie dell'apparato radicale perché prende fisicamente il posto dei funghi cattivi. È in grandissima crescita anche l'orto sul balcone oppure su spazi pavimentati. Possiamo coltivare i nostri ortaggi preferiti attraverso dei vasi. Vi posso sicuramente consigliare dei vasi belli capienti, chiaramente ne troverete un vasto assortimento e possiamo andare a scegliere poi se inserire pomodori, zucchine, cetrioli, melanzane o peperoni. Chiaramente anche questi sono tutti prodotti coltivati direttamente da noi a chilometro zero. Abbiamo un vasto assortimento di pomodori con oltre 16 varietà. Una di queste, forse una delle più interessanti, è sicuramente il San Marzano Cornabel. È un San Marzano dalla forma molto allungata e dal sapore antico che vi consiglio fortemente di venire a provare. Ed ora apriamo la pagina sportiva. Infatti a due giorni dalla partita probabilmente più importante dell'anno scoppia un focolaio di Covid all'interno dell'Alma Fano. La squadra Granata a sabato affronterà Limolese nella gara d'andata dei play-out ma dai tamponi di ieri sono emersi tre casi di positività ai calciatori Brero, Bruno e Scimia. Ora seguiranno altri test medici per scongiurare che il virus non si sia diffuso nello spogliatoio mettendo a rischio la disputa della finale. E sabato si gioca tanto anche Little Service che al Palanino Pizza ospiterà la signor prestito Matera in gara tre dei quarti di finale play-off. Ieri in diretta su Rossini TV vi abbiamo mostrato la sconfitta al photo finish della squadra pesarese che a Matera è caduta col punteggio di 5 a 4. Sabato a Pesaro gara da dentro o fuori per decidere chi andrà in semifinale. Play-off partiti invece col piede giusto per la Megabox Vallefoglia che ieri ha vinto 3 a 1 a Soverato. E continuiamo a parlare di sport, tra l'altro questa sera in prima serata insomma l'ultima puntata di Insieme a Canestro. Lunedì si è chiuso il campionato infatti della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e appunto questa sera vedremo l'ultima puntata. Siete stati tantissimi a seguirci davvero in queste lunghissime 25 puntate che ci hanno permesso e vi hanno permesso di seguire da vicino il campionato. Allora abbiamo deciso di farvi raccontare una sintesi, un bilancio di quello che è stato il campionato di quest'anno attraverso le parole di Ario Costa. Direi un bilancio positivo, un bilancio ottimo a mio modo di vedere anche se l'ultima parte è stata un po' più in difficoltà. Abbiamo fatto la girona d'andata e di conseguente le finaletti di Coppa Italia alla grande raggiungendo a una finale che a settembre era quasi un sogno o una bestemmia, dipende come si voleva, quindi direi veramente una buona stagione e quindi rifletteremo su questa stagione per il futuro. Ecco, anticipato il futuro, se ci può dare già qualche indicazione su quale sarà la politica societaria in merito? La politica societaria è sempre la stessa più o meno, cercare di non fare cose che non possiamo fare, di fare il passo giusto con la gamba giusta, non più lungo di quello che è la regola, quindi rispettare il nostro budget, le nostre possibilità economiche e dopodiché cercare di strutturare un organico di giocatori che già qualcosa abbiamo, cercare di, a 360 gradi, di ripartire dove non solo la squadra deve essere al centro delle attenzioni e ovviamente che lo è, ma anche tutto il resto, quindi dar sempre più vita a questa società che sta prendendo sempre più attenzioni nel campionato italiano. La necessità fondamentale per ripartire sarà la riapertura della vitrifrigo al pubblico? Assolutamente sì, è chiaro che è essenziale il nostro pubblico per due motivi, uno per sentire il loro calore che ti dà sostegno, ti dà tutto quello che sappiamo serve e anche dal punto di vista economico è chiaro che è un aiuto importante, dopo aver fatto una stagione a zero, rifare un'altra così sarebbe veramente difficile. E allora davvero grazie ancora a nome di tutto il team di Rossini TV, grazie alla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che quest'anno ha scelto Rossini TV come strumento della sua comunicazione, come strumento per far vivere sempre più in città il basket, in città e in tutta la regione chiaramente. E allora questa sera appunto alle 21.15 insieme a Canestro, Marco Cadeddu per l'ultima volta intervisterà alcuni esponenti del basket e quindi avremo Ario Costa che è presidente della Carpegna Prosciutto, poi ci sarà Luca Pieri che è presidente di Aspes Spa, Camilla Cataldo giornalista del Corriere Adriatico. In seconda serata alle 22.15 c'è Spazio Webbo e questa sera Michele Panzieri e Topazio Perlini presentano il Re Borto. Domani Casa Rossini torna in diretta alle 10, in diretta sul canale 633, in diretta anche sulla nostra pagina Facebook. Domani si parla molto di musica, infatti avremo Clara Rossi che è una cantante e poi Boris Rappa che è un albergatore e Gabriel Piergiovanni De Leoni che è un musicista, non perdetevi quindi la puntata. Ma attenzione perché sabato 15 maggio alle ore 20 in diretta c'è il playoff di gara 3 in diretta dal Palanino Pizza di Pesaro, Ital Service Pesaro contro Signor Prestito, una partita importantissima che vi consigliamo di non perdere. E poi attenzione, qua la zampa, la prossima settimana mercoledì 19 maggio partirà la prima puntata, inviateci le foto e i nomi chiaramente dei vostri animali a quattro zampe, mandateci le vostre foto con il nome appunto al 370-366-7210 potrete vincere una fornitura di cibo, infatti le foto verranno caricate sulla nostra pagina Facebook, quella che riceverà più like appunto vincerà, quanto vi ho detto. E poi vi ricordiamo anche di scaricare l'applicazione di Rossini TV, soprattutto adesso che arriva la bella stagione potrete avere Rossini TV sempre in tasca, sempre a portata di mano, sul vostro cellulare. Quindi potrete vedere in diretta la rassegna stampa, il telegiornale, i programmi che vi piacciono di più e soprattutto potrete anche segnalare le cose che non vanno attraverso il tasto, inviaci una segnalazione, il clic, inviaci una segnalazione. Quindi scaricate la nostra app per vederci in tempo reale. Ho detto davvero tutto, adesso vi lascio con il meteo, sperando che ci sia un bel sole per i prossimi giorni. Io vi ricordo la rassegna stampa di domani, che sarà condotta da Daniele Sacchi alle 7.20. Grazie. Grazie.